Questa è l'autore più importante del palazzo, a sala di rappresentanza, immaginate qui il signore che faceva il suo bel paluchetto con tutti gli ospiti illustri, che è enorme, con queste architetture classificate, con queste architetture romane, con queste decorazioni sempre a rappresentare cose dell'architettura in pietra che si tollevano per l'oglio di fresco, e poi c'è questo grandissimo e grande dipinto con questo oramiglio, con queste navi, galeoni, più storico animale, siamo nel 1600.